Respinta alla pregiudiziale firmata Fanelli Facciolla, 11 voti contrari, 8 favorevoli che puntava a sostenere l'improcedibilità per assenza totale delle condizioni formali per procedere alla votazione, assenza del parere dei revisori dei conti, la maggioranza ha votato e approvato un subemendamento alla legge di stabilità che permetterà l'accensione di un mutuo da 40 milioni di euro. Debito buono lo ha definito in aula il presidente della regione Donato Toma, debito che servirà, spiega ai nostri microfoni l'assessore Vincenzo Niro, a finanziare opere pubbliche, in particolare strade, senza chiedere un euro in più ai molisani. È un mutuo per investimenti che viene fuori per preparare un piano triennale con gli enti locali e al fine di poter sopperire tutte le carenze croniche che in questa regione purtroppo si sono verificate da diversi tempi e che oggi sono attuali perché vanno risolte con la massima urgenza. Ci è reso possibile utilizzare dei tassi molto vantaggiosi, anche su questo noi non preleveremo nessun centesimo dalla tasca dei nostri molisani perché andiamo nella proiezione, nella procedura di ricontrattualizzazione, nell'ambito della ricontrattualizzazione dei muti, ricaveremo le somme necessarie per poter coprire eventuali rate di mutuo. Il mutuo verrà contratto con cassa, depositi e prestiti. Niro lo definisce un'occasione, prestito dice modulare in considerazione dei decreti che verranno attuati. 21 milione nel 2021, 20 nel 2022 e 19 nel 2023. Quali interventi e su quali arterie le priorità sono state indicate da comuni ed enti che operano sul territorio? Gli enti locali, comuni, province e consorzi e quant'altro hanno dichiarato e hanno certificato le loro esigenze di priorità, ne hanno classificate in tre livelli e noi adesso stiamo lavorando, e che entrerà a far parte una parte di questi progetti, entreranno a far parte del futuro contrazione del piano della viabilità. Solo la prima parte, questo i cittadini lo devono sapere, ecco perché ricorriamo a un piano regionale di sviluppo, solo le segnalazioni con priorità uno, cioè priorità elevata, ammontano a circa 84 milioni di euro. Quindi questo testimonia l'esigenza di procedere non solo attraverso le altre risorse che il Presidente, che è anche titolare della delega al bilancio della programmazione, tra l'altro, a stare invenendo nelle maglie del nostro bilancio, ma soprattutto ci aspettiamo che il Governo ci ridia quello che ci ha prelevato lo scorso anno per sopperire all'emergenza sanitaria.